Grazie. Saluto di nuovo, allora buon pomeriggio, ringrazio di nuovo, leggiamo dunque il canto ultimo del paradiso con il nostro solito metodo di questa modalità da remoto che abbiamo avuto in questi tre ultimi anni per via della pandemia, cioè leggendo tutto di seguito, poi riprendendo a un certo punto farò la nostra solita pausa di cinque minuti durante la quale vi prego di inviarmi se avete dei dubbi, le vostre domande sulla chat, poi riprendiamo, ci salutiamo, rileggiamo il canto per l'ultima volta così ce ne andiamo con la musica di Dante nell'udito e nella mente. Vergine madre, figlia del tuo figlio, umile e alta più che creatura, termine fisso d'eterno consiglio, tu sei colei che l'umana natura nobilità stissì, che il suo fattore non disdegnò di farsi sua fattura. Nel ventre tuo si raccese l'amore, per lo cui caldo nell'eterna pace così è germinato questo fiore. Puoi sei a noi meridiane a face di caritate e giusi in tre immortali, sei di speranza, fontana vivace. Donna, sei tanto grande e tanto vali, che qual vuol grazia e a te non ricorre, sua disianza vuol volar sanzali. La tua benignità non pur soccorre a chi domanda, ma molte fiate, liberamente al dimandar precurre. In te misericordia, in te pietate, in te magnificenza e in te saduna quantunque in creatura è di bontate. Por questi, che dall'infima lacuna dell'universo in fin qui ha vedute le vite spirituali ad una ad una, supplica a te per grazia di virtute tanto che possa con gli occhi levarsi più alto verso l'ultima salute. E io che mai per mio veder non arsi più ch'io fa per lo suo, tutti i miei prieghi ti porgo e priego che non siano scarsi, perché tu ogni nube li disleghi di sua mortalità coi prieghi tuoi, sì che il sommo piacer li si dispieghi. Ancorti priego, regina, che puoi ciò che tu vuoli, che conservi sani dopo tanto veder gli affetti suoi. Vinca tua guardia i movimenti umani. Vedi, Beatrice, con quanti beati per i miei prieghi ti chiudon le mani. Gli occhi da Dio diletti e venerati, fissi nell'orator, ne dimostraro quanto i devoti prieghi le son grati. Indi all'eterno lume Sadrizzaro, nel quale non si deve credere che si invii per creatura l'occhio tanto chiaro. E io che al fine di tutti disii appropicuava, siccome io dovea, l'ardor del desiderio in me finì. Bernardo m'accennava e sorridea perché io guardassi suso, ma io era già per me stesso tal qual lei volea, che la mia vista, venendo sincera, è più e più in trava per l'oraggio dell'alta luce che da sé è vera. Da quinci innanzi il mio veder fumaggio che il parlar mostra, che a tal vista cede, e cede la memoria a tanto il traggio. Qual è colui che somniando vede, che dopo il sogno la passione impressa rimane e l'altro alla mente non riede, co tal sonio che quasi tutta cessa mia visione ancor mi distilla nel cuore il dolce che nacque da essa. Così la neve al sol si visigina, così al vento nelle foglie levi si perdea la sentenza visibilica. O somma luce che tanto ti levi da concetti mortali, alla mia mente ripresta un poco di quel che parevi e fa la lingua mia tanto possente che una favilla sul della tua gloria possa lasciare alla futura gente, che per tornare alquanto a mia memoria e per sonare un poco in questi versi, più si conceperà di tua vittoria. Io credo, per la come che io soffersi del vivo raggio, che sarei smarrito se gli occhi miei da lui fossero avversi. E mi ricorda che io fui più ardito per questo a sostenere, tanto chi giunsi l'aspetto mio col valore infinito. O abbondante grazia, un Dio presunsi ficcarlo viso per la luce eterna, tanto che la veduta vi consunsi. Nel suo profondo vidi che si interna, legato con amore in un volume, ciò che per l'universo si squaderna, sostanze accidenti e loro costume quasi conflati insieme per tal modo che ciò che io dico è un semplice lume. La forma universale di questo nodo credo chi vidi perché più di largo dicendo questo mi sento chi godo. Un punto solo, ma è maggior letargo che venticinque secoli all'impresa che fè Nettuno a mirare l'ombra d'argo. Così la mente mia tutta sospesa, mirava fissa, immobile e attenta, è sempre di mirare faceasi accesa. A cotal luce cotal si diventa che volgersi da lei per altro aspetto è impossibile che mai si consenta. Parò che il ben che è del volerio obietto tutto s'accoglio in lei e fuori di quella ed effettivo ciò che è lì perfetto. O mai sarà più corta mia favella pure a quel che io ricordo che d'un fante che bagna ancora la lingua alla mammella. Non perché più che un semplice sembiante fosse nel vivo lume che io mirava che tale è sempre qualsera davante ma per la vista che s'avvalorava in me guardando una sola parvenza mutando mio a me si travagliava. Nella profonda e chiara sussistenza dell'alto lume parvermi tre giri di tre colori ed una contenenza e l'un dall'altro come iri da iri parea reflesso e il terzo parea foco che quince quindi ugualmente si ispiri. O quanto è corto il dire e come fioco al mio concetto e questo a quel che vidi e tanto che non basta dicer poco. O luce eterna che sola in te sidi sola ti intendi e da te intelletta e intendente te ami e aridi. Quella circolazione che si concetta pareva in te come lume reflesso dagli occhi miei alquanto circunspetta dentro da sé del suo culore stesso mi parve pinta della nostra effigie perché il mio viso in lei tutto era messo. Qual è il geometra che tutto s'affigge per misurarlo cerchio e non ritrova pensando quel principio dell'indige tale raiva quella vista nuova veder voleva come si convenne l'imago al cerchio e come vi si indova ma non erano da ciò le proprie penne se non che la mia mente fu percossa da un fulgure in che sua voglia venne all'alta fantasia qui mancò possa ma già volgevi il mio disilvelle siccome rota che ugualmente è mossa l'amor che muove il sole e le altre stelle allora forse ricorderete che due settimane fa quando abbiamo letto il canto ultimo avevamo notato che quel canto trentesimo secondo era finito con l'annuncio dell'orazione santa che Bernardo si accingeva a porre alla Vergine affinché come il suo compito mediasse tra Dante mortale e la visione diretta di Dio quindi il canto questo si apre con questa celeberrima preghiera che fa Bernardo alla Vergine che è davvero molto bello e molto interessante i primi tre versi sono dedicati all'invocazione cioè il vocativo per la Vergine che è formato come forse avrete intuito durante la prima lettura da una serie di antitesi cioè da opposizioni che sarebbero simoriche che nel mondo non avrebbero luogo e che in qualche modo preparano alla incomprensione dei misteri ultimi che Dante cercherà in vano di descrivere con parole umane alla fine del canto quindi la prima antitesi è appunto Vergine Madre che è qualcosa che è chiaramente una condizione che si dà solo miracolosamente in Maria figlia del tuo figlio cioè figlia di Dio ma madre allo stesso tempo di tuo figlio figlia umile e alta più che creatura cioè creatura più alta dell'umanità proprio per la sua estrema umiltà termine fisso d'eterno consiglio cioè termine prefissato eternamente dalla provvidenza divina come momento diciamo cruciale cruciale nel senso etimologico di croce di incrocio del piano divino e del piano umano che è stato appunto l'incarnazione quindi la Vergine era già vi ricordate che nel canto scorso abbiamo visto che lei insieme alle altre donne giudee separano la parte della rosa celeste formata da coloro che vissero prima di Cristo e quelli che vissero dopo proprio perché è lei che incarna Cristo e che quindi è il termine prefissato tra l'antica diciamo inamicizia che va da Adamo a Cristo con l'umanità e la diciamo la possibilità il riscatto che grazie a Cristo hanno le anime dei cristiani finito il vocativo comincia la loda di Bernardo alla Vergine tu sei colei che l'umana natura nobilitasti sì che il suo fattore non disdegnò di farsi sua fattura cioè tu sei quella che rese così nobile l'umanità che Dio il creatore dell'umana natura volle diventare fattura propria e cioè umano anche lui nel ventre tuo si raccese l'amore per lo cui caldo nell'eterna pace così è germinato questo fiore questa è un'immagine bellissima ricordiamo che se vogliamo immaginare in un qualche modo fisico l'Empireo dove si trova ora Dante in mezzo ai salvati lui è insieme a Bernardo nel giallo centrale di questa sorta di anfiteatro che Dante ha nominato come rosa formata appunto da tutti i salvati che sono i suoi petali ora questa rosa che è chiaramente una rappresentazione visibile per Dante di una condizione che non ha né tempo né spazio che è puro amore intelletto e quindi che è una figura in qualche modo ora acquista in questa terzina che abbiamo appena letto una materialità biologica perché Bernardo dice alla Vergine che nel suo ventre si ripristinò l'amore si raccese l'amore che era spento tra Dio e la sua creatura l'amore per il cui caldo nella pace eterna dell'Empireo è germinato questo fiore e cioè il ventre della Vergine diventa il caldo in cui può nascere questo fiore di salvati perché è lei quella che permette appunto la salvezza e al verso decimo qui sei a noi meridiana face di caritate e giusin tra i mortali sei di speranza fontana vivace qui tra di noi dice Bernardo cioè tra noi salvati sei la fiamma più alta meridiana come un sole di mezzogiorno di carità quindi sei la fiamma più accesa di amore per Dio e giù nel mondo dei mortali sei una fonte sempre viva di speranza donna sei tanto grande e tanto vali che qual vuol grazia e a te non ricorre sua disianza vuol volar sanzani donna sei così grande e hai un così alto valore che colui che vuole grazia non ricorre a te è come se volesse privare di ali il proprio desiderio è come qualcuno che vuole volare non ha le ali questa diciamo necessità dell'intercessione della Vergine per ottenere grazia da Dio e Bernardo stesso l'aveva scritto in un testo quindi qui come Dante ha fatto tante altre volte con alcuni personaggi lui come scrittore sta mettendo in bocca del personaggio parole che quel personaggio storicamente aveva scritto chiaramente non in terzine con terza rima ma in una prosa latina e al verso 16 è interessante perché tutta questa loda che chiaramente riguarda l'altissima bontà e virtù di Maria e il suo compito per l'umanità in genere si specifica nel ricordo di quello che lei fece con Dante ma che Maria può fare per tutti noi la tua benignità non pur soccorre a chi domanda ma molte fiate liberamente al di mandare precorre cioè la tua bontà non soltanto dà risposta nel soccorrere qualcuno che l'ha domandata l'ha domandato il soccorso ma molte volte precorre liberamente senza bisogno di richiesta la domanda che effettivamente questo è molto interessante perché da una parte ricorda una caratteristica che Cacciaguida aveva attribuito a Can Grande della Scala in quella parte diciamo in cui dedica in qualche modo il paradiso nel canto 17 vi ricordate che dopo aver profetizzato a Dante l'esilio con i dettagli di quello di tutti i dolori che avrebbe comportato per lui Cacciaguida annuncia a Dante che sarà ospitato nella corte scaligera di Verona e che conoscerà Can Grande della Scala e gli profetizza un bene parziale in mezzo al male dell'esilio già che gli dice tra voi due cioè tra Can Grande e te sarà più lento quello che di solito è il primo cioè lui tra il dire e il dare Cacciaguida si anticiperà le tue richieste quindi avrà una cortesia tale da non metterti nell'imbarazzo di dover chiedere e quindi una caratteristica umana che chiaramente in modo imperfetto a Maria nella sua massima espressione e che Maria ha mostrato appunto nei confronti del Dante Pellegrino perché come noi come lettori veniamo a sapere nel secondo canto dell'inferno mentre Dante stava tornando verso la selva Maria si era già mossa senza che Dante pregasse ne chiedesse aiuto per inviare Santa Lucia che a sua volta inviò Beatrice che a sua volta gli inviò Virgilio vero? quindi anche con Dante che è chiaramente un personaggio come abbiamo sempre visto individuale ma è anche diciamo rappresentante della umanità che pecca Maria fece questo che qui Bernardo gli riconosce come manifestazione della sua grande benignità il fatto di precurre alla richiesta di aiuto e al verso 19 in te misericordia in te pietate in te magnificenza in te saduna quantunque in creatura e di bontate cioè in te Maria si radunano tutte le virtù delle creature il che è del tutto coerente con la precedenza che ha il repertorio di virtù mariane nel purgatorio vi ricordate tra gli esempi di virtù che si oppongono al peccato che si sconte in ogni cornice quindi in Maria c'è nella sua massima manifestazione tutta la virtù degli umani e al verso 22 inizia la supplica cioè è finita la loda che seguiva il vocativo l'invocazione e inizia proprio la supplica in nome di Dante por questi che dall'infima lacuna dell'universo e fin qui ha vedute le vite spirituali ad una ad una ora lui Dante che accanto a Bernardo che dal pozzo di Cucito nel nono cerchio dell'inferno che è la parte più bassa dell'universo ha visto ad una ad una le vite in spirito supplica a te per grazia di virtute tanto che possa con gli occhi levarsi più alto verso l'ultima salute cioè ti supplica di ottenere una tale virtù da potersi sollevare con gli occhi il più alto possibile verso la salvezza ultima e io che mai per mio veder nonarsi più chi fa per lo suo tutti i miei prieghi ti porgo e priego che non siano scarsi perché tu ogni nube gli disleghi di sua mortalità coi prieghi tuoi sì che il sommo piacergli si dispieghi allora qui Bernardo dal verso ventotto eh personalizza la richiesta dice io che non sono mai arso per il mio vedere Dio quanto non stia facendo per il suo per il vedere di Dante cioè si vede qui la perfetta solidarietà che c'è tra i beati che ardono di desiderio di vedere se stessi Dio quanto per Dante che è un pellegrino lì ti porgo tutte le mie preghiere e prego che non siano insufficienti affinché tu lo liberi da ogni nuvola della sua mortalità con le tue preghiere dice Bernardo a Maria quindi quello che gli sta chiedendo è di pregare lei che è chiaramente quella che Dio ascolta di più affinché Dante possa vedere il sommo piacere la somma felicità Dio dispiegata davanti ai suoi occhi direttamente forse ricorderete che quando anni fa abbiamo letto il canto 26 dell'inferno quello di cui è protagonista Ulisse io vi avevo accennato al fatto che in una terzina nella quale Dante riferisce con quale scatenata passione aveva chiesto a Virgilio di permettergli di parlare con Ulisse maestro io ti priego e ripriego che il mio priego vaglia mille che non mi facci dell'attender niego io in quel momento vi avevo detto che il solo altro momento del libro in cui il verbo pregare si ripeteva più volte in versi successivi era appunto questo dentro la preghiera di Bernardo alla Vergine in un contesto altamente significativo perché se lì la preghiera era quella del Dante peccatore attratto consapevolmente in pericolo da quello che Ulisse rappresentava qui la preghiera è affinché Dante veda Dio quindi secondo alcuni studiosi questa coincidenza lessicale tra quella ripetizione del verbo pregare in quel contesto e qua suggerisce l'importanza vitale che ebbe per Dante l'incontro con Ulisse senza il quale forse non si sarebbe aperto a lui il paradiso perché come abbiamo visto quando abbiamo letto quel canto stupendo Ulisse è nella sola zona dell'inferno verso la quale Dante implicitamente esprime un'attrazione molto rischiosa quindi è come se il Dante scrittore mettendo questo verbo pregare in ripetizioni sia lì che qua stesse invitandoci a considerare che se lui non avesse avuto la providenziale occasione di imparare da Ulisse ad allontanarsi dal peccato di superbi intellettuale non si sarebbe salvato quindi non gli si sarebbe aperta la visione ultima che qui Bernardo sta chiedendo per lui e al verso 34 come se non bastasse la bellezza di questa preghiera Bernardo aggiunge una terzina davvero commovente che considera la vita breve futura che spetta Dante quando tornerà dal viaggio come umano ancora ti priego regina che puoi ciò che tu vuoli che conservi sani dopo tanto vederli affetti suoi cioè qui Bernardo aveva già chiesto che a Dante venisse dispiegato il sommo piacere quindi che vedesse Dio avrebbe potuto finire lì la preghiera perché questo è il massimo cui si può aspirare ma lui ora pensa alla condizione del Dante Pellegrino che deve tornare al mondo e deve scrivere un libro per noi umani e allora prega la Vergine che conservi sani gli affetti umani di Dante dopo aver visto tanto cioè che Dante non cada in un misticismo tale da disprezzare il mondo quando torna perché Dante sta per vedere in Dio il bene assoluto supremo e quindi Bernardo considera che c'è il rischio che quando Dante torni al mondo non possa continuare ad amare quelli che rappresentano beni imperfetti necessariamente in confronto con Dio e quindi che conservi sani questi affetti che sono quelli che alimentano il libro che deve scrivere e io quando leggo questo canto con amici come voi che mi accompagnano mi piace condividere eccezionalmente un'esperienza personale di lettura che penso possa essere anche di interesse per voi di solito cerco di non farlo cerco di trasmettervi solo quello di cui sono sicura perché sono insomma idee accertati da una critica insomma prestigiosa ma io ricordo sempre che la prima volta che Lessi completa la Divina Commedia con tantissimo sforzo e arrivata a questa terzina ebbi la sensazione che questa preghiera in qualche modo coinvolgeva noi lettori e che fosse una richiesta affinché possiamo conservare sani gli affetti per altri libri dopo tanto vedere perché effettivamente dopo aver letto questo libro non è facile accontentarsi di altri e quindi forse una preghiera anche per noi che stiamo arrivando alla fine della lettura di un libro perfetto affinché possiamo anche accontentarci di libri umani e al verso 37 aggiunge per l'ultima come ultima idea Bernardo vinca tua guardia i movimenti umani vedi Beatrice con quanti beati per le miei prieghi ti chiudono le mani bellissima ultima immagine dell'Empirio che avremo di tutte le anime che pregano per la visione di Dante e che quindi ci danno proprio l'idea dell'importanza che questa visione ha per l'umanità e il nome di Beatrice la donna che si mosse per salvare Dante come ultimissimo dettaglio personale del traguardo che Dante sta raggiungendo quindi al verso 39 si chiude la preghiera riprende la parola il Dante poeta che in questo canto non aveva ancora parlato gli occhi da Dio diletti e venerati fissi nell'orator ne dimostraro quanto i devoti prieghi le son grati cioè gli occhi di Maria quelli preferiti diletti e venerati da Dio essendo fissi in Bernardo nell'odatore e non in Dio come sono tutte le anime sempre che stanno contemplando Dio ci dimostrarono quanto lei accoglieva volentieri questa preghiera devota indi all'eterno lume satrizzaro nel quale non si deve credere che si invii per creatura l'occhio tanto chiaro quindi c'è quando finirono le parole di Bernardo Maria che durante la preghiera aveva guardato lui rivolse i suoi occhi nella luce eterna di Dio nella quale nessun'altra creatura entra più profondamente e quindi dobbiamo capire che in questi versi 43 45 quello che sta accadendo è che Maria trasmette a Dio la preghiera che Bernardo gli ha fatto quindi sta facendo sua questa richiesta per Dante e al verso 46 e io che al fine di tutti disì apprompicuava siccome io dovea l'ardor del desiderio in me finì e io che mi stavo avvicinando alla fine al fine ultimo di tutti i desideri così come è dovuto Dante infatti lo dice la stessa idea appare nel convivio nella monarchia esaurì portai al mio termine finale l'ardore del desiderio Bernardo mi accennava e sorridea perché io guardassi Suso ma io era già per me stesso tal qual lei volea cioè Bernardo con un sorriso accenna Dante affinché guardi in Dio prima vi ricordate l'aveva invitato a guardare Maria ora finita la preghiera sta indicando a Dante guarda Dio perché evidentemente la preghiera di Maria è ascoltata da Dio quindi Dante potrà vedere direttamente Dio ma Dante era già per sé stesso in quella situazione quindi spontaneamente liberamente senza bisogno più di una guida che gli indichi che cosa fare stava già istintivamente guardando Dio verso 52 che la mia vista venendo sincera e più e più entrava per lo raggio dell'alta luce che da sé è vera già che la mia vista diventando sempre più pura entrava più e più dentro il raggio di Dio dell'alta luce che è la sola luce che è vera in sé stessa e non è solo il riflesso della luce di Dio come sono le altre luci ora vedete che qui inizia una visione di Dio che in Dante è progressiva a differenza della istantanea rivelazione che hanno i salvati perché lui è umano e nonostante chiaramente gli sia stata una grazia straordinaria deve prepararsi progressivamente a vedere Dio in un modo analogo a quello in cui ha visto progressivamente l'Empireo prima come fiume di luce poi come cerchio poi come rosa e al verso 55 il Dante scrittore interrompe la narrazione nel momento in cui lui immerge gli occhi nella luce che è Dio per dichiarare come ha fatto più volte ma in questo canto il topo sarà veramente quello più sviluppato l'ineffabile estremo del suo racconto cioè quello che non può dire con parole umane da qui innanzi il mio veder fumaggio che il parlar mostra che a tal vista cede e cede la memoria a tanto oltraggio cioè da qui in avanti dice il Dante scrittore la mia visione fu maggiore di quello che può mostrare la parola umana in alcuni manoscritti appare questo verbo mostra cioè che mostra il parlare in altri il possessivo nostro del parlar nostro umano già che davanti a questa visione il parlare cede cioè è insufficiente e cede anche la memoria di fronte a questa visione eccessiva questo oltraggio vi ricordate quando abbiamo letto all'inizio di quest'anno il primo canto del paradiso che Dante aveva annunciato di aver visto cose che non si possono né ricordare né dire cioè l'inizio della cantica era appunto la gloria di colui che tutto muove per l'universo penetra e risplende in una parte più e meno altrove nel ciel che più della sua luce prende fui io e vedi cose che ridire ne sa ne può chi di lassù discende il cielo che più della sua luce prende è appunto l'Empire dove Dante è ora e quindi quello che deve descrivere ora come poeta è parte di quelle cose che essendo necessariamente tornato alla sua condizione mortale non può recuperare con la memoria e quindi non può neanche dire con la parola più volte abbiamo visto che Dante si trovava in difficoltà nel dover descrivere una musica particolarmente bella una luce eccessiva la bellezza di Beatrice e di solito due erano finora le strategie diciamo da scrittore di fronte a queste impossibilità o saltava quel sacrato poema salta e quindi passa ad altro rassegnandosi a non dire quello per il quale non ha memoria o non ha parola oppure si serviva soprattutto quando la difficoltà era verbale più che di memoria si serviva di analogie di paragoni pur di avvicinare quell'esperienza straordinaria alla nostra comprensione in questo caso Dante si trova davanti all'estremo ineffabile perché non è che non ha parole per dire quello che ricorda non ricorda quello che vide e quindi è in bianco e sa che deve finire il poema ma non può recuperarne la materia e quindi che fa invece di fare un'analogia di quello che vide per rendere almeno approssimativamente in parole la sua il suo oggetto di visione in questo caso si serve di tre analogie non per quello che vide che non ricorda bensì per la sua condizione di poeta in quel momento in questo momento perché è come se qui ci invitasse a condividere il presente della scrittura nel quale si trova davanti a questo vuoto e quindi al verso cinquantotto qual è colui che sognando vedi che dopo il sogno la passione impressa rimane e altro alla mente non riede cotal sonio che quasi tutta cessa mia visione ancormi distilla nel core il dolce che nacque da essa cioè questo è questo è un'analogia davvero universale perché questa è un'esperienza che abbiamo tutti avuto il fatto di svegliarci di sapere che abbiamo sognato qualcosa di avere ancora l'emozione la sensazione del sogno ma non poter recuperare quello che abbiamo visto così dice Dante che come colui che si sveglia che ha visto qualcosa in sogno gli rimane impressa la sensazione ma non torna alla memoria il resto così sono io dice Dante già che l'oggetto della mia visione è quasi completamente scomparso ma ancora oggi dice il Dante scrittore che il 1321 sta finendo il libro e che fece il viaggio vent'anni fa ancora mi cadono gocce di dolcezza della visione e quindi ci presenta un'immagine davvero interessantissima di uno scrittore che ha scritto tutto il libro senza ricordare l'ultimo che dovrà raccontare lo scrisse con il dolce che gli nacque e con la speranza di poterlo recuperare nel momento in cui ne avrebbe avuto bisogno quindi come chi si sveglia da un sogno ha un'emozione nel cuore ma la mente non riesce a recuperare ciò che si è sognati adesso un'altra immagine così la neve al sol si disigilla cioè così la neve si scioglie e perde la forma che un sigillo gli aveva dato prima qualcosa che c'era e che era intelligibile che ora non c'è più così al vento nelle foglie levi si perdea la sentenza di Sibilla così la Sibilla Pumana che come narra Virgilio nel terzo dell'Eneide scriveva i suoi risponsi oracolari nelle foglie degli alberi che poi volavano e quindi la saggezza che c'era scritta si perdeva così Dante ha perso quella visione Dante ora si metterà a pregare per chiedere appunto il Dante scrittore che deve finire il suo libro e non ricorda ciò che vide e quindi non può finirlo farà una preghiera a quella stessa luce che vide anni prima è significativo è bello che l'ultimo suo sforzo umano di ragione sia associato a Virgilio a un'immagine appunto dell'Eneide quello della Sibilla ora al verso 67 prega il Dante scrittore per poter finire il libro o somma luce che tanto ti levi dai concetti mortali alla mia mente ripresta un poco di quel che parevi e fa la lingua mia tanto possente che una favilla sul della tua gloria possa lasciare alla futura gente che per tornare al quanto a mia memoria e per sonare un poco in questi versi più si conceperà di tua vittoria allora Dante il Dante scrittore davanti ai suoi fogli in bianco prega la somma luce che si solleva si eleva così tanto dai concetti mortali cioè da quello che può concepire una mente limitata umana quindi la sua stessa che non non può recuperare concepire avere dentro di sé quello che aveva visto straordinariamente per grazia durante il viaggio gli chiede di riprestare alla sua mente alla mente ora del Dante scrittore almeno un poco di quello che Dante aveva visto cioè detto in seconda persona Dante dice ripresta alla mia mente almeno una parte di quello che mi sei apparsa questo verbo riprestare è interessante perché suggerisce forse che Dante non stia chiedendo di recuperare per sempre la memoria della visione ma almeno il tempo necessario come un prestito appunto non un regalo non un dono che dura per sempre ma almeno il sufficiente per poterlo raccontare perché effettivamente dopo aver chiesto di recuperare nella mente almeno in parte la visione chiede ora di dare alla sua lingua poetica una tale potenza da poter lasciare almeno una scintilla di quell'incendio che fu la visione per lasciarla alla futura gente questo è molto importante perché suggerisce che il Dante scrittore non aveva bisogno di ricordare la visione durante tutta la sua vita aveva bisogno di recuperare i suoi affetti dopo aver visto tanto aveva bisogno chiaramente della sensazione di dolcezza che nacque dalla visione ultima ma ora che ne ha bisogno come scrittore osa chiederlo a Dio cioè la memoria dell'oggetto ultimo di visione a Dante viene dato straordinariamente solo per noi cioè affinché lo possa scrivere nel suo libro e noi futura gente lo possiamo leggere e quindi al verso 73 spiega già che per il fatto di tornare almeno in parte alla mia memoria e per poter suonare almeno un poco in questi versi che sto scrivendo proprio ora più si comprenderà del trionfo di Dio e qui io credo perché notevolmente nella critica questo non l'ho trovato ma secondo me qua tra il verso 75 e il verso 76 in modo implicito Dante ci fa capire che la sua preghiera è stata esaudita e che lui ora si comincia a ricordare quello che prima non ricordava perché infatti ora comincia a descriverlo io credo per la come che io soffersi del vivo raggio chi sarei smarrito se gli occhi miei da lui fossero avversi un'altra un'altra situazione lì che contrasta con la condizione umana Dante dice per la acutezza l'intensità del vivo raggio della luce divina io credo che mi sarei smarrito cioè che avrei perso conoscenza che sarei diventato cieco se i miei occhi si fossero stornati da lui cioè a differenza del mondo e di tante volte in cui Dante ha dovuto abbassare lo sguardo davanti a una luce che lo abbagliava in questo caso lui intuisce che quella visione intellettuale perché qui diciamo quello che Dante sta vedendo è la luce della verità la luce che da sé è vera in questo caso straordinario Dante crede che si sarebbe smarrito la parola non è casuale perché ricorda che la dritta vi era smarrita nel primo dell'inferno se avesse diciamo distorto gli occhi verso un altro oggetto quindi a differenza di quello che accade con le luci del mondo Dante perciò per chi intuisce che fuori da quella luce non c'è verità osa mantenere il suo sguardo umano unito con la divinità infatti al verso 79 e mi ricorda chi fui più ardito per questo a sostenere tanto chi giunsi l'aspetto mio col valore infinito cioè mi ricordo che io per quello osai cioè per quello perché intuivo che se io avessi spostato lo sguardo mi sarei perso per quello fui più ardito nel sostenere lo sguardo dentro il raggio divino tanto da unire la mia vista umana individuale di peccatore che sta facendo un tragetto di sanazione con Dio con il valore infinito e lo scrittore prima di descrivere quello che vede dentro Dio che occupa la seconda parte del canto esclama di nuovo o abbondante grazia un Dio presunsi ficcarlo viso per la luce eterna tanto che la veduta vi consunsi o grazia abbondante dalla quale mi venne la presunzione di fissare lo sguardo attraverso la luce eterna di Dio tanto da consumare da far arrivare al limite la mia vista siccome dal verso 84 fino alla fine Dante ci offrirà la descrizione di quello che vide dentro Dio vi suggerisco di fare la pausa ora mandatemi se ne avete le vostre domande tra cinque minuti riprendiamo grazie allora riprendiamo vedo messaggi belli di affetto sulla chat vi ringrazio stiamo vedendo per qualcuno che domanda se le lezioni l'anno prossimo che saranno all'istituto si riprenderanno stiamo pensando stiamo vedendo anche agli aspetti tecnici comunque tutti i video che sono su YouTube delle lezioni di questi ultimi tre anni rimarranno quindi potete tornare a sentire se ne avete bisogno potete anche sentire qualche altro professore così arricchite un po' la vostra visione grazie grazie a voi allora continuiamo a leggere perché dobbiamo vedere dentro Dio verso ottantacinque nel suo profondo vidi che si interna legato con amori non volume ciò che per l'universo si squaderna sostanze accidenti loro costume quasi conflati insieme per tal modo che ciò chi dico è un semplice lume allora questo è meraviglioso perché Dante diciamo la prima immagine retorica chiaramente di cui si vale per dire che dentro Dio lui vide l'intero universo concentrato scusa si sente un rumore non so se c'è qualcuno che non è silenziato il microfono ecco ora vi ho silenziati tutti grazie allora dicevo la prima cosa che Dante ci dice di aver visto dentro Dio è tutto l'universo tutta la creazione che nell'universo è diciamo sparpagliata è dispersa ma per dirlo si serve della significativa immagine del libro cioè nel profondo della luce vedi che si interna cucito come un libro cucito col filo appunto ma il filo e l'amore quello che per l'universo è squadernato in fascicoli è un'immagine stupenda che probabilmente ha anche un suggerimento numerico simbolico perché il verbo internarsi oltre a voler dire essere dentro alla radice del numero tre della trinità e la parola squadernarsi come anche il termine quaderno ha il numero quattro perché sono i fogli legati in quattro quelli che sono alla base etimologica della parola quaderno inquadernare squadernare quindi è possibile che Dante abbia voluto anche suggerire che dentro Dio lui vede dominata dalla trinità l'intera esistenza dell'universo che nell'universo squadernandosi diventa un numero misurabile umano come il quattro e infatti vedremo più avanti che torna attraverso un'immagine geometrica questa impossibilità di dare una misura umana al divino e che cosa sono tutte le cose che sono legati con amore in un volume sostanze accidenti e loro costume cioè le tre categorie aristoteliche dell'esistente le forme o sostanze gli accidenti o le materie e la miscela tra le due categorie quasi conflati insieme cioè amalgamati questo verbo conflare che è un verbo di cui si serve Sant'Agostino è un verbo meraviglioso perché il verbo che si usa per il soffio dell'artigiano che fa il vetro e quindi suggerisce l'immagine di un dio creatore che soffia l'universo che esce da lui ma il soffio chiaramente è l'amore che lega tutte le cose create amalgamate in un modo tale che quello che io dico dice il Dante scrittore è un semplice lume c'è una luce riflessa che non riesce a cogliere proprio l'entità di quello che ricordo e al verso 91 questa è una tazzina anche questa incredibile la forma universale di questo nodo credo chi vidi perché più di largo dicendo questo mi sento chi godo cioè io credo credo probabilmente nel senso di so con certezza no o fede di aver visto la forma universale di questo nodo cioè l'essenza dell'universo e perché credo di aver visto questo perché mentre scrivo questo sento di godere di più è un passo veramente eccezionale perché il povero Dante l'abbiamo sempre immaginato abbastanza cruciato arrabbiato indignato qui vediamo per l'unica volta il godimento di star portando a termine la sua missione di scrittore e di profeta e di seguire il proprio piacere come guida del fatto di star dicendo la verità vi ricordate che Virgilio nelle ultime parole che nel paradiso terrestre aveva pronunciato a Dante aveva detto il tuo piacere ormai prendi per duca cioè ormai puoi seguire il tuo piacere come guida perché essendoti liberato dalle false passioni del peccato il piacere in te ormai coincide con il bene quindi il fatto che il Dante scrittore tanti anni dopo questa di questo addio di Virgilio si lasci guidare dal piacere che gli provoca scrivere una cosa questo gli dà proprio la certezza di star scrivendo la verità il fatto di star godendo suggerisce che tanti anni dopo continuo a seguire il consiglio di Virgilio e ora al verso 94 inizia la terzina forse più misteriosa di tutto questo canto che tutto sommato è relativamente chiaro sebbene abbia chiaramente delle idee teologiche per niente semplici perché Dante ricorda qua l'impresa degli argonauti che aveva ricordato anche all'inizio della cantica un punto solo ma è maggior letargo che 25 secoli all'impresa che fenettuno ammirare l'ombra d'argo cioè qui la discussione soprattutto versa sul significato della parola letargo io ora nella mia parafrasi seguirò quello che oggi la critica autorizzata più diciamo accorda ad attribuire al termine che è il significato di oblio torpore e quindi quello che sta dicendo è un solo punto della mia visione mi è causa di un oblio maggiore di quello che separa in 25 secoli l'impresa degli argonauti quella di Giasone di attraversare per la prima volta l'oceano e quindi Dante starebbe mettendo a confronto un punto un istante della sua visione con l'intera storia dell'umanità secondo diciamo alcuni calcoli che facevano i latini per cui gli argonauti avrebbero attraversato insomma la colchide in ricerca del vello d'oro nel 1223 avanti Cristo dando inizio proprio all'impresa umana ora il mistero è come mai nel più cristiano dei canti di questo poema cristiano Dante si mette a parlare degli argonauti ma anche insomma senza osare dare una risposta a questo osserviamo due cose meravigliose di questa immagine intanto la figura della nave perché qui diciamo in qualche modo si sta riprendendo un topos molto importante che era nato con il canto di Ulisse con il magnifico racconto del suo ultimo viaggio in nave e che era stato ripreso magistralmente dall'inizio del purgatorio con l'immagine della navicella del suo ingegno che attraversa acque migliori rispetto a quelle acque morte dell'inferno e con l'immagine della nave e le nostre navicelle che seguono la poesia durante la lettura del secondo del paradiso ma poi a mio avviso la grande stupefacente bellezza di questo di questa terzina risiede soprattutto in questa immagine sotto acquatica del dio del mare Nettuno che è attonito guardi in alto perché vedi l'ombra della nave degli argonauti e si ammira si ammira dell'impresa umana cioè questa deità che esclama dal fondo del mare mamma mia che stanno facendo gli umani percorrendo il mare per la prima volta allora al verso 97 così la mente mia tutta sospesa mirava fissa immobile e attenta e sempre di mirar faceasi accesa vedete che qua si esplicita che la visione non è degli occhi non è una visione sensoriale bensì mentale no? perché dice così la mente mia mirava guardava fissa assorta immobile attenta e si accendeva sempre di guardare di più e al verso 100 si riprende e si spiega l'idea precedente secondo cui da quella luce non si può distorcere lo sguardo perché ci si smarrisce a quella luce cotal si diventa che volgersi da lei per altro aspetto è impossibile che mai si consenta però che il ben che è del volere obietto tutto s'accoglie in lei e fuori di quella ed effettivo ciò che è lì perfetto allora davanti a quella luce che è Dio si diventa tali che è impossibile consentire che lo sguardo si distragga per vedere un'altra cosa perché perché il bene che è l'oggetto ultimo del desiderio del volere si raccoglie del tutto in lei in quella luce e fuori da quella luce è difettivo quello che lì è perfetto e quindi gli occhi della mente chiaramente una volta vista la verità assoluta il bene assoluto non hanno alcun desiderio che li porti a guardare altrove dove il bene la bellezza la verità è imperfetta e ora al verso 106 Dante dichiara di nuovo l'inefabilità di quello che deve raccontare ora e lo fa portando all'estremo la serie di regressioni che avevamo notato durante la lettura del paradiso in cui Dante paragona se stesso con un bambino sempre meno in grado di dire a parole la sua esperienza o mai sarà più corta mia favella pura quel che io ricordo che d'un fante che bagna ancora la lingua alla mammella cioè ormai ormai come scrittore cioè da ora in poi per quello che devo narrare la mia favella la mia capacità di parola sarà più corta anche rispetto a quello che io ricordo che è sottointeso che è una parte un'ombra di quello che si è visto anche per dire il mio ricordo sarà più corta la mia lingua di quella di un neonato che ancora prende il latte dalla tetta della mamma cioè Dante si trova nella condizione proprio nell'apice dell'impossibilità di dire quella del bimbo che non sa nemmeno distinguere la madre da sé e che fa i rumorini che fanno i bimbi deliziosi mentre vengono allattati senza alcuna possibilità di dire una parola articolata è un'immagine stupenda anche perché la parola mammella appartiene appunto un ambito molto familiare perciò io mi sono permessa di insomma di parafrasarla come tetta perché equivale effettivamente a questo grado di colloquialità perché solo un poeta come Dante può mettere quest'immagine così quotidiane così umile nel suo ultimo canto in rapporto con la visione di Dio ma anche perché è un'immagine che suggerisce una nuova nascita che è l'incontro di Dante come individuo in Dio vero? E ora chiarisce siccome ha detto ormai cioè ha detto da ora in poi vuole mettere le mani avanti su una possibile nostra incomprensione perché dice non perché quello che io devo narrare ora sia diverso da quello che dovevo narrare prima non perché Dio cambiasse e ne lo chiarisce così non perché più che un semplice sembiante fosse nel vivo lume che io mirava che tale sempre qualsera davante ma per la vista che s'avvalorava in me guardando una sola parvenza mutando mio a me si travagliava cioè non è che per me ora sia più difficile parlare di quello che vidi perché nella luce viva che io guardavo ci fosse più che un semplice sembiante già che quella luce è sempre uguale era sempre come era prima davanti ma perché la mia vista mentre io guardavo prendeva sempre più potenza più valore e quindi una parvenza sola immutabile mentre io mutavo sembrava di cambiare davanti a me perché era la mia vista quella che cambiava e quindi vedevo sempre cose diverse dentro Dio che era sempre uguale anche questo credo suggerisca quello che capita a noi lettori con la commedia la commedia è sempre quella che è ma noi ogni volta che l'apriamo siccome noi siamo diversi la vediamo diversa e vi troviamo cose sempre nuove e ora ci racconta la prima cosa che ci ha detto di vedere dentro Dio ricapitolando è l'intero universo unito dentro l'amore della Trinità come un libro che nell'universo è disperso ora ci racconterà una nuova visione che è quella della Trinità il grande mistero diciamo emblematico di ciò che non possiamo capire nel mondo come si possa essere uno e trino allo stesso tempo verso 115 nella profonda e chiara sussistenza dell'alto lume parvermi tre giri di tre colori ed una contenenza e l'un dall'altro come iri da iri parea reflesso è il terzo parea foco che 15 e quindi dualmente si ispiri cioè nella profonda e chiara sussistenza cioè nell'essenza dell'alto lume cioè della luce profondissima di Dio mi apparvero tre cerchi di tre colori diversi e della stessa contenenza cioè di solito si parafrasa e si traduce contenenza come dello stesso diametro cioè della stessa superficie ma la parola contenenza vuol dire che contengono esattamente i tre cerchi lo stesso spazio non solo in dimensioni ma anche in coincidenza l'uno con l'altro quindi quest'immagine come anche quella che ora vedremo che chiude il canto e la cantica e il poema è incomprensibile a noi perché se noi vedessimo tre cerchi di diversi colori sovrapposti nel mondo con i nostri occhi umani in mezzo allo spazio potremmo percepire solo quello che è più vicino a noi perché coprirebbe quei due che sono dietro invece invece Dante riesce a vedere i tre colori nonostante siano nello stesso spazio della sua rappresentazione mentale chiaramente perché Dante questo è importante cioè tutto questo che Dante vede ora come tre cerchi e quello che vedrà ora sono figure simboliche di quello che è Dio Dio nella sua essenza non può essere ricordato né trasmesso infatti questa sarà l'ultimissima esperienza del viaggio con la quale chiuderemo la lettura allora come sappiamo che la Trinità perché uno sembrava sto ora parafrasando il verso 118 uno appariva come riflesso dell'altro come un arcobaleno dell'altro e questo per chi più o meno è avvezzo alla teologia trinitaria lo decodifica come il figlio che è riflesso del padre e il terzo cerchio appariva come fuoco ugualmente ispirato dal padre e dal figlio da quinci e quindi cioè lo spirito santo che è appunto la parola questo sintagma che noi ripetiamo a volte senza pensare è il santo spiro la respirazione no del padre del figlio che creano appunto lo spirito santo e qui Dante si sofferma come scrittore di nuovo per esclamare l'insufficienza di quello che sta dicendo rispetto di quello che ricorda e anche l'insufficienza chiaramente di quello che ricorda rispetto a quello che vide o quanto è corto il dire come fioco al mio concetto e questo a quel che vidi è tanto che non basta a dicere poco questa terzina io l'ho capita solo in questi giorni mentre preparavo questa lezione nonostante abbia studiato la commedia tanti anni questo canto in particolare lo leggo in ogni occasione anche corso antologico perché guardate che Dante sta dicendo innanzitutto quanto è corto insufficiente la parola il dire è come fioco cioè debole rispetto del mio concetto cioè di quello che io ho concepito quindi che ricordo ora nella mia mente ma ha potuto dire che era corto e fioco ha potuto usare parole umane per rendere questo divario tra concetto mortale e parola umana invece aggiunge e questo cioè il mio concetto umano della mia mente rispetto a quello che io vidi è tanto cioè è così poco che non è sufficiente dire poco cioè mentre Dante ha parole umane per segnare la differenza tra quello che ricorda e quello che può dire per segnare la differenza tra quello che ricorda e la visione della divinità non ha parole è insufficiente anche dire poco e allora in questo momento c'è una nuova invocazione al verso 124 che è prodotto appunto della constatazione dell'insufficienza di ciò che sta descrivendo o luce eterna che sola intessidi sola ti intendi e da te intelletta e intendente te ami e arridi cioè l'esclamazione chiaramente unimembre per rendere per giustificare in qualche modo l'insufficienza di quello che lui con parole umane può scrivere o luce eterna che sei solo in te stessa cioè che risiedi solo in sé a differenza di tutte le creature che debbono la propria esistenza a Dio sola ti intendi cioè sei la sola a comprenderti e intelletta da te e intendente te ami e sorridi questa quest'ultimo verbo aridi sembra di essere a quanto diciamo almeno fin dove arriva la mia conoscenza le note che ho letto una innovazione dantesca cioè che Dio risiede in sé stesso e sia l'unico che intende sé stesso e che sia amore sono idee tradizionali della filosofia e della teologia ma che Dio goda in questa sua esistenza sembra di essere un'aggiunta dantesca un'innovazione diciamo sottolineo il verbo sembrare perché chiaramente non conosco tutta la teologia precedente è possibile che qualcuno insomma mi sape indicare una fonte di quest'idea ma fin dove ho letto sembra di essere un'idea di Dante che era apparsa più volte in rapporto con la creazione divina non so se vi ricordate per esempio nel sedicesimo del purgatorio nel discorso di Marco Lombardo quando dice che che Dio diciamo che l'anima umana esce dalla mano di Dio che la vagheggia prima ancora di crearla no? Questo verbo vagheggiare è un verbo appartenente al campo semantico del piacere perché vagheggiare è una parola dell'ambito della lirica erotica che vuol dire ammirare innamorati è vero? E in quello stesso discorso di Marco si dice che l'anima semplicetta che sa nulla questa tabula rasa la sola cosa che fa siccome è stata creata con piacere è cercare il proprio piacere quindi si insiste cioè il Dio di Dante è un Dio che crea con felicità e adesso al verso 127 inizia la terza delle visioni che Dante ci rimanda che riguarda l'altro grande mistero del dogma che è l'incarnazione Dante sta ammirando questo triplice cerchio di diversi colori e ora al verso 127 parla in seconda persona a quella luce della visione quella circolazione che si concetta pareva in te come lume reflesso dagli occhi miei alquanto circunspetta dentro da sé del suo colore stesso mi parve pinta della nostra effigie perché il mio viso in lei tutto era messo allora quel cerchio che era così concepito in te come lume riflesso cioè la seconda persona della Trinità il figlio alquanto alquanto osservato dai miei occhi dentro di sé del suo stesso colore mi apparve dipinta quella circolazione della nostra immagine umana ora anche qua così come avevamo osservato in rapporto con queste antitesi ossimoriche che aprivano la preghiera vergine madre figlia del tuo figlio che come vi avevo detto in qualche modo ci preparavano all'impossibilità di comprendere Dio nella sua essenza al fatto che questi tre colori noi non possiamo immaginare di vederli se occupano lo stesso spazio anche qua un'altra immagine a noi impossibile perché Dante vede che di questi tre cerchi quello che rappresenta il figlio è dipinto ma dello stesso colore del fondo con l'immagine del viso umano ora noi se vediamo un dipinto in cui il fondo ha lo stesso colore della forma che si disegna sopra chiaramente non riusciamo a cogliere questa figura che non si differenzia dal fondo invece lì miracolosamente Dante riesce a vederlo e dice che la nostra no la nostra il nostro ritratto umano che vede quindi quello che sta vedendo è nella persona del figlio la natura umana per cui dice al verso 132 il mio viso cioè la mia vista era tutta messa in lei cioè Dante come uomo fissa spontaneamente il figlio perché li vede l'uomo cioè questo questo verso 132 tradizionalmente viene parafrasato anche come l'ho appena fatto come un consecutivo per cui visto che vedevo la nostra immagine umana il mio sguardo si era fissato proprio in questo cerchio ma potrebbe anche forse essere letto forse come come causale cioè io vedevo la nostra immagine perché il mio viso era anche dentro cioè perché Dante sta vedendo in tutta la creazione sta vedendo anche se stesso e sta vedendo tutti noi sta vedendo no ricorderete forse per chi di voi come penso sia la maggior parte argentino il racconto di Borges e l'Alef che prende molto di questi ultimi canti del paradiso e fa una bellissima enumerazione di tutto quello che lui dice di vedere in questo infimo oggetto luminoso dove c'è tutto il mondo dove vede tutto e Borges si dice che vede tutti noi e vede se stesso e vede l'Alef in una misina bis no certo Dante si accontenta di dire sostanze accidenti loro costume perché lì sa aristotelicamente di star comprendendo tutta l'esistenza vero ma evidentemente Dante sta guardando la nostra immagine quella del figlio e arriva al punto massimo di difficoltà di capire e quindi un'altra volta ci offre un'analogia per rendere questa sua questo suo sforzo estremo al verso centotrentatré qual è il geometra che tutto s'affigge per misurare lo cerchio e non ritrova pensando quel principio dell'indige tal era io a quella vista nuova veder voleva come si convenne l'imago al cerchio e come vi si indova cioè come il geometra che si sforza del tutto per trovare la quadratura del cerchio anche lì c'è la coesistenza dell'umano col divino il cerchio chiaramente è la figura geometrica insieme al punto emblematica per Dio per l'incommesurabile il geometra che si sforza per trovare la quadratura del cerchio e pensando cioè valendosi della propria ragione non trova il principio di cui ha bisogno il verbo indigere del verso centotrentacinque lo potete associare al al nostro participio presente indigente no cioè indigere vuol dire aver bisogno di qualcosa cioè è molto interessante questa immagine perché Dante diciamo nella monarchia e nel convivio dice appunto che la quadratura del cerchio è un problema irrisolubile e lo sappiamo anche oggi è irrisolubile cioè creare un quadrato che abbia le stesse dimensioni la stessa superficie di un cerchio è qualcosa che non si può fare e quindi Dante è consapevole almeno quando scrive del fatto che si stava sforzando per capire qualcosa che non è raggiungibile dal pensiero umano così ero io dice appunto al verso centotrentasei davanti questa nuova vista cioè il dipinto del ritratto umano nel cerchio che è il figlio volevo vedere come si conveniva l'immagine al cerchio questo dipinto dentro il cerchio cioè come entrava la natura umana nel cerchio divino nella persona del figlio e come vi si indova cioè come si mette dentro qui Dante un'altra volta inventa una parola proprio per dire qualcosa che non è nel linguaggio umano che costruisce appunto questo verbo indovarsi su l'avverbio e il pronome di luogo dove è il prefisso indovarsi cioè come entra nello stesso dove della divinità l'umanità questo è quello che Dante sta cercando di capire chiaramente inutilmente attraverso la propria mente e al verso 139 ma non erano da ciò le proprie penne se non che la mia mente fu percossa da un fulgure che in sua voglia venne cioè ma le mie ali non erano capaci di un tale volo cioè la mia forza razionale era insufficiente a capire la doppia natura di Cristo umana e divina se non che la mia mente fu percossa da un raggio che venne in aiuto del proprio desiderio cioè qui Dante riceve un ultimo colpo di grazia che gli permette di vedere Dio nella sua essenza ma chiaramente questo non lo può né ricordare quello che vide né ovviamente scrivere all'alta fantasia cui manco possa ma già volgevi il mio disio il velle siccome rota che ugualmente è mossa l'amor che muove il sole le altre stelle allora quest'ultima terzina è molto complessa sintatticamente io necessariamente la rovinerò per spiegarvela e poi la rileggeremo cercando di rigudercela Dante dice che la nuova la la l'alta sua fantasia la fantasia chiaramente come al solito bisogna stare attenti vedete in questo libro fino all'ultimo verso per non fuorviarci nella comprensione non non ha l'accezione moderna di fantasia di fantasticare ma è un tecnicismo che equivale alla parola immaginativa che è una facoltà organica della mente che organizza e dà significato a quello a tutte le informazioni frammentarie che porgono i sensi quindi è una facoltà mentale indispensabile per capire quello che uno vede e sente qui davanti alla visione di Dino e senza per grazia per quest'ultimo raggio ricevuto la fantasia o immaginativa di Dante cade è come se svenisse gli mancò la potenza ma ora capovolgo l'ultimo l'ultima terzina come vi dicevo perché il soggetto dell'ultima frase è l'ultimo verso ma Dio cioè l'amore che muove il sole e le altre stelle che si muovono appunto per amore di Dio già faceva girare sto tornando al verso centoquarantatré il mio desiderio e la mia volontà come una ruota di orologio che si muove costantemente e regolarmente cioè io ero già cioè la mia fantasia non poté comprendere quest'ultima visione ma la mia volontà e il mio desiderio stavano già girando al ritmo del cosmo secondo l'amore divino che muove l'universo queste due parole di Dio e Belle sono un'ulteriore meravigliosa genialità di Dante proprio in chiusura del poema perché l'audacia di Dante è tale che non solo mette nel penultimo verso del suo poema un'immagine probabilmente presa da un oggetto di modernissima tecnologia come l'orologio meccanico quello delle ruote degli ingranagli degli orologi che si muovono con velocità costante ma anche in posizione di rima per l'ultima rima con la parola stelle con la quale voi sapete Dante chiude i tre libri un tecnicismo latino il verbo velle che è un infinito latino che vuol dire volere tipico della lingua della scolastica come sinonimo significativo di disio cioè disio è una parola tipica della lirica erotica in rapporto con le donne in rapporto con Beatrice il disio e il velle è il termine del desiderio della volontà più legato alla volontà di conoscere perché Dante qua eccezionalmente vede soddisfatti totalmente appagati sia il suo desiderio di amore che il suo desiderio di conoscenza perché Dio è amore e verità amore e intelletto quindi in tutti in tutti i suoi bisogni di amore e di conoscenza Dante è già pagato eccezionalmente come vivo condividendo la sua condizione con quella dei salvati e si serve fino all'ultimo di tutte le parole che ha onorato come poeta del suo italiano che ha fatto nascere come vera lingua capace di dire tutto e del latino che è la lingua della conoscenza attraverso la quale ha acquistato scienza vedo che ci sono delle domande non capisco bene questo dell'orologio beh sì è ovvio che non si capisce bene perché non l'ho spiegato bene perché in realtà quello che Dante dice è come una ruota che è mossa e quindi in voce passiva è mossa da qualche altro da qualche altra forza ugualmente cioè regolarmente secondo alcuni studiosi siccome Dante si era già valso dell'immagine dell'orologio che insomma che fa ruotare questo meccanismo così bello degli orologi meccanici di ruotine che girano a diverse velocità secondo alcuni studiosi Dante si sta riferendo appunto a questa ruota degli orologi non è necessario che sia così è bello che sia così perché è un'immagine appunto di una grande contemporaneità all'epoca di Dante perché era un'invenzione veramente di tecnologia di punta all'epoca di Dante che Dante aveva ammirato e aveva sfruttato esteticamente in altre parti del paradiso ma se non volete non pensate un orologio Dante sta parlando di una ruota che si muove che è mossa da un'altra forza in modo regolare come immagine per rendere la perfetta congruenza che c'è tra la sua volontà e il suo desiderio e l'universo chiaramente Dante questo non ci può raccontare che cosa vide perché appunto non ha potuto neanche capirlo la sua mente è stata diciamo colpita da un raggio di grazia che l'ha fatto andare oltre il limite umano quindi chiaramente non potrà recuperarlo quando anni dopo si mette a scriverlo ma certo sappiamo che dopo questo è tornato al mondo e ha scritto questo incredibile libro con quello che si ricorda vero? Prima di rileggere il canto così ce ne andiamo anche con la voce di Dante nella memoria vi ringrazio ancora della vostra compagnia della vostra fedelità è stato veramente bello un balsamo anche attraverso lettere condividere questo libro incredibile e vi ringrazio anche del del regalo materiale che mi avete voluto fare spero di vedervi l'anno prossimo in tre dimensioni all'istituto chi di voi è a a Buenos Aires e recuperare anche quella dimensione così necessaria dell'aula grazie ancora buone feste buon anno rileggiamo il canto grazie a te Claudia veramente perché sono stati questi tre anni con tutto quello che abbiamo vissuto con la pandemia ascoltare te e Dante veramente mi fa emozionale grazie ascoltare Dante ascoltare Dante continuate a leggerlo poi ormai potete leggerlo da soli ci sono edizioni stupende con le note la parola la parola di Dante veramente sì è consolazione pergine madre figlia del tuo figlio umile e alta più che creatura termine fisso d'eterno consiglio tu sei colei che l'umana natura nobilità stissì che il suo fattore non disdegnò di farsi sua fattura nel ventre tuo si raccese l'amore per lo cui caldo nell'eterna pace così è germinato questo fiore qui sei a noi meridiana fasce di caritate e giuso in tre immortali sei di speranza fontana vivace donna sei tanto grande tanto vali che qual vuol grazia e a te non ricorre sua disianza vuol volar sanzali la tua benignità non pur soccorre a chi domanda ma molte fiate liberamente al dimandare precorre in te misericordia in te pietate in te magnificenza in te saduna quantunque incredibile creatura e di montate or questi che dall'infima lacuna dell'universo infin qui avvedute le vite spirituali ad una ad una supplica a te per grazia di virtute tanto che possa con gli occhi levarsi più alto verso l'ultima salute e io che mai per mio veder non arsi più che io fa per lo suo tutti i miei prieghi ti porgo e priego che non siano scarsi perché tu ogni nube li disleghi di sua mortalità coi prieghi tuoi sì che il sommo piacer mi si dispieghi ancora ti priego regina che puoi ciò che tu vuoli che conservi i sani dopo tanto veder gli affetti suoni vinca tua guardi i movimenti umani vedi Beatrice con quanti beati per i miei preghi ti chiudon le mani gli occhi da Dio diletti e venerati fissi nell'orator ne dimostraro quanti i devoti prieghi le son grati indi all'eterno lume sadrizzaro nel qual non si deve creder che si invii per creatura l'occhio tanto chiaro e io che al fine di tutti visia prompicuava siccome io dovea l'ardor del desiderio in me finì Bernardo m'accennava e sorridea perché io guardassi susso ma io era già per me stesso tal qual lei volea che la mia vista venendo sincera e più e più entrava per lo raggio dell'alta luce che da sé è vera da quinci innanzi il mio veder fumaggio che il parlar mostra che a tal vista cede e cede la memoria tanto oltraggio qual è colui che sognando vede che dopo il sogno la passione impressa rimane e l'altro alla mente non riede cotal che quasi tutta cessa mia visione e ancor mi distilla nel cuore il dolce che nacque da essa così la neve al sol si disigilla così al vento nelle foglie levi si perdea la sentenza di sibica o somma luce che tanto ti levi dai concetti mortali alla mia mente ripresta un poco di quel che parevi e fa la lingua mia tanto possente una favilla sol della tua gloria possa lasciare alla futura gente che per tornare alquanto a mia memoria e per sonare un poco in questi versi più si conceperà di tua vittoria io credo per la come che io soffersi del vivo raggio chi sarei smarrito se gli occhi miei da lui fossero avversi e mi ricorda che io fui più ardito per questo a sostenere tanto chi giunsi l'aspetto mio col valore infinito o abbondante grazie a un Dio presunsi ficcarlo viso per la luce eterna tanto che la veduta vi consorsi nel suo profondo vidi che si interna legato con amore in un volume ciò che per l'universo si squaderna sostanze accidenti e loro costume quasi conflati insieme per tal modo che ciò che io dico è un semplice lume la forma universale di questo noto credo chi fidi perché più di largo dicendo questo mi sento chi godo un punto solo ma è maggior letargo che venticinque secoli all'impresa che fenettuno a mirar l'ombra d'arco così la mente mia tutta sospesa mirava fissa immobile e attenta e sempre di mirar faceasi accesa a quella luce cotal si diventa che volgersi da lei per altro aspetto è impossibile che mai si consenta però che il ben che è del volere obietto tutto s'accoglie in lei e fuor di quella ed effettivo ciò che è lì perfetto o mai sarà più corta mia favella pura quel che ho ricordo che d'un fante che bagna ancora la lingua alla mammella non perché più che un semplice sembiante fosse nel vivo lume che io mirava che tal è sempre qual sera davante ma per la vista che salvalorava in me guardando una sola parvenza mutando mio a me si travagliava nella profonda e chiara sussistenza dell'alto lume parvermi tre giri di tre colori ed una contenenza e l'un dall'altro come iri da iri parea riflesso e il terzo parea foco che quince quindi ugualmente si ispiri o quanto accorti il dire come fioco al mio concetto e questo a quel che vidi è tanto che non basta dicere poco o luce etterna che sola intessivi sola ti intendi ed a te in pelletta e intendente te ami e ridi quella circolazione che si concetta pareva in te come lume reflesso dagli occhi miei alquanto circuspetta dentro da sé del suo colore stesso mi parve pinta della nostra effigie perché il mio viso in lei tutto era messo o a lei geometra che tutto s'affigge per misurarlo cerchio e non ritrova pensando quel principio dell'indige tale era io a quella vista nuova veder voleva come si convenne li mago al cerchio e come vi si indova ma non erano da ciò le proprie pende se non che la mia mente fu percorsa da un fulgure che in sua voglia venne all'alta fantasia mi mancò possa ma già volgeva il mio disiel velle siccome rota che ugualmente è mossa l'amor che muove il sole e l'altre stelle grazie auguri